Amici, farò delle storie dopo dove sarò molto più decente perché faccio letteralmente schifo, mi devo lavare i capelli e non mi piaccio, quindi quando mi darò una sistemata farò delle storie. Mamma, ma tutto a posto? Siamo noi cosa non si fa. Allora, mettiamolo la tinta. Si fa la tinta in casa, Lorenza, dove sei? No soy ni mala ni santa, tráeme alcohol pa' que se moje la garganta. Una como yo a ti te hace falta. Cagliadita Mi stavo chiedendo una cosa. Praticamente io vedo storie o amiche che mandano foto tutte in costume, che prendono il sole, no? Va bene, sì, c'è il sole, nel senso fa caldo, però tira quel vento che io non riesco a stare in costume, cioè fa freddo lo stesso. Perché è solo da me? Cioè è solo da me? Voglio dire, anche io voglio prendere il sole. Uffa, oh, dai, anche io volevo. Grazie. 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 Grazie.